Salve a tutti da Marcello e da Federico, ciao! Siamo qui nel reparto sportivo per farvi vedere qualcosa delle nostre scarpe, chiamiamole da tennis, chiamiamole sportive, poi ci sono da running eccetera, chiamiamole da tennis in senso generico perché ormai questo aggettivo è diventato sinonimo per queste scarpe qua, sportive, partiamo per esempio dall'Adidas, abbiamo dei modelli tipo running sport sia in nylon che in pelle, oppure da basket, poi può andare alle scarpe original come la Pro Play, la Samba, la ZX750 in vari colori, la Los Angeles Trainer eccetera, abbiamo numeri anche molto grandi fino al 13 e addirittura su certe collezioni fino al 15, quindi un 49-50, abbiamo poi la linea Neo dell'Adidas, molto di grande successo in vari modelli, chiaramente vi facciamo vedere, è bene dirlo, solo i modelli da uomo fra l'altro, sono una parte dei modelli da uomo, perché i modelli da donna sono in un altro reparto e i modelli da bambino anche in un altro reparto, abbiamo la collezione fra l'altro Adidas da bambino più grande d'Italia, quindi avete capito bene, certificato, abbiamo la collezione Adidas da bambino più assortita, più grande d'Italia, quindi venite anche voi famiglie perché non mancano chiaramente le scarpe sportive al bottegone della calzatura e cosa importantissima, laddove non c'è magari un'offerta risparmio del 10, del 20 e del 30% come ci sono in vari prodotti qui esposto, magari c'è il prezzo destino, alla cassa ci facciamo il risparmio, come alla vecchia maniera, il bottegone è bottega per certe cose perché è azienda familiare che vi serve e vi consiglia nei migliori dei modi, bottegone gigante perché è un megastore molto assortito eccetera, però alla cassa in pratica vi tradiamo bene, vi facciamo lo sconto, anche laddove i prezzi sono di destino, quindi tenete bene in mente questa cosa, o c'è l'offerta risparmio o c'è il risparmio comunque alla cassa? Comunque spendite poco. Poi abbiamo le altre Adidas, le Skechers, nelle loro varianti da uomo in questo caso, da donna le abbiamo in altre parti, nella loro Shapeux Live, quelle con il dondolino, vedete, in pelle o in crosta in questo caso, vedete molto molto comode e fra l'altro ultra leggere, addirittura ci sono anche modelli con il memory gel, form, la schiuma interna nel tallone, molto molto comodi e riposanti. Abbiamo chiaramente le Fuma, modelli giovanili e meno giovanili, vi facciamo vedere solo alcuni modelli da uomo, poi da bambino e da donna sono in altre parti, è un assaggio della capacità del bottegone e la calzatura. New Balance, le Reebok, abbiamo un vastissimo assortimento di calzature di Reebok, perché? Perché sono scarpe adatte, senz'altro le più adatte a chi ha magari un piede grande, grosso, di fiocca, come si dice, di pianta larga, eccetera. Calzano benissimo queste scarpe qui. E non è che li facciamo spendere una cifra esagerata, vi facciamo spendere con le nostre offerte a partire da 39, 20, 39 e 20, ma non prodotti vecchi, prodotti attuali, prodotti articoli dell'attuale stagione invernale, che l'inverno poi inizia il 21 dicembre, quindi non è ancora arrivato, del 2004-2015, 2014-2015, quindi pensate bene, vi facciamo risparmiare e scegliere sui prodotti nuovi Reebok. Calzatura, come vi ho detto, importante e giusta per chi ha un piede addirittura corposo, corpulento, con una fiocca grande e magari una persona che pesa 150-160 kg e non sa mai cosa comprare perché non gli sta niente e le scarpe ne durano poco. Ecco, gli consigliamo Reebok perché è un prodotto giusto. L'abbiamo nelle versioni colorate, l'abbiamo nelle versioni in mesh più o meno aperte, vede, traspiranti, chiaramente con tutti già gli ammortizzanti interni, eccetera. Poi tanti modelli con solette estraibili, solette estraibili, se non c'è da mangiare, è importante, molto importante. Abbiamo pochi minuti, dobbiamo dire tante cose e in testa non c'entra tutto. È normale. Anche perché la testa, la mia capa, come dice il comico, come dice la capa, la capa tosta, tengo la capa tosta. E quindi abbiamo anche modelli tipo pelle chiusi per affrontare l'inverno o un lavoro più duro, penso a un meccanico, penso a un carruzziere, comunque flessibili, però chiaramente più resistenti all'acqua e al freddo. E anche su numeri giganti, per esempio abbiamo i numeri dal 40, 39-40, fino al numero, guarda un po'. Questo è un 15. Quante volte ho detto telecamera, lo vedi questo qui? Che per Paolo è un genio della tecnologia, ma la telecamera non so se lo può ancora dare. Questo è un 15. Non è che ne abbiamo uno, ne abbiamo tanti. Perché da noi tanti clienti vengono con i piedoni. È un 50. È un 50. È calza 50, eh? Non è che calza poco, perché le ribocca calzano comode. Quindi venite. Anche voi che avete i piedoni, ormai lo sapete, al bottegone ci sono le calzature, anche per chi ha il piede grosso e lungo, come il 50. Fino al 50 l'abbiamo. E ne abbiamo tanti. Abbiamo poi anche prodotti più performanti. Addirittura come la Sketchers hanno il gel interno, chiamiamolo gel, chiamiamolo schiuma in lattice molto morbida. Qui chiaramente il mio dito lo sente, ma voi dallo schermo ultra piatto che avete in casa non potete sentire questa morbidezza. Dovete provarla. Abbiamo anche dei prodotti leggeri, come in questo caso la linea in memory touch della Riboc. Ecco. Poi passiamo ad altri tipi di prodotti. Abbiamo le calzature della Caterpillar, abbiamo le calzature della Lamberge, che i famosi classici polacchi, i gialloni, anche le scarpe sportive, le abbiamo veramente tante. Abbiamo le scarpe della Marina Militare, abbiamo i prodotti della Lambretta, originali. Abbiamo la Diadora. Io vedo la Diadora, che è molto bellina, sì sì, molto bellina. Modelli vintage. Sì, modelli giusti. Io vedo che i ragazzi giovani le comprano perché ci stanno bene e costano un pezzo basso. Non costano l'occhio della testa. Come se non bastasse la cassa viene in offerto qualcosa. Cosa direte voi? Eh, non ve lo dico. Dovete venire al bottegone perché dovete risparmiare. È una sorpresa che vi facciamo alla cassa. Solo nel bottegone. Quindi, troverete, che ne so, se non avete capito ancora, la Lamberge, il classico giallone, originale, con l'offerta del 10%, ma anche altri prodotti come l'Aliadora, questa, che non c'è l'offerta sul prezzo. Alla cassa vi facciamo lo sconto in poche parole. Via. Vi trattiamo bene perché noi vogliamo trattare bene i nostri clienti. I nostri clienti vengono anche da lontano e dobbiamo in qualche modo ringraziarvi di questa cosa. Quindi, ringraziarli non solo con l'assortimento, non solo con la competenza di 45 anni di carriera, non solo con la cortesia, non solo con il personale pronto a consigliarvi, ma anche con risparmio. E qui di risparmio ne troverete. Lasciamo perdere tutto, Federico, l'immenso reparto da trekking calcio perché... Facciamo vedere in un'altra occasione. Le Nike si parte da 44 e 90, con una scarpa giusta di mesh per andare in palestra, per andare a lavorare, per tutti i giorni. Abbiamo colorate, fatte in colori anche particolari, come ha creato la Nike, anche Fluo, ma anche chiaramente in colori sobri. Questa per dire arancione, questo rosso tendente all'arancione e grigia. Poi ce l'abbiamo con il baffo verde. Questo qui molto più sparato, sempre 44 e 90. Raggi gamma! Raggi gamma! Vi ricordo il cartone di base della nostra infanzia. Molto prodotto e molto venduto. Prodotti più specifici magari per chi corre abitualmente, ma questa è anche una scarpa da mettere tutti i giorni su un jeans. Leggerissima, guardate qua. Con l'aria nella suola. Oppure abbiamo anche la tecnologia Dual Fusion, molto leggera. Quella molto bella. Anche chi vuole fare della corsa, del footing, eccetera. Quindi abbiamo le scarpe anche per questi clienti, chiaramente. Poi abbiamo dei prodotti come questo, Fede, molto venduto. Anche questo qui, ma un modello da tutti i giorni, guardate qua. La classica T-Lite che assomiglia più a una scarpa civile che a una scarpa da tennis. Tipo crosta, è questa qui. Anche nella versione nera. Vedete, ce l'abbiamo così. Molto venduta. E così di pelle. È molto, molto giusta. Leggerissima, flessibile. Posta un po' di su e noi ci mettiamo del nostro. È una scarpa che va provata perché calza veramente benissimo. Poi abbiamo le scarpe tipo basket, vintage, sono forze sia bassa che alta, in vari colori. La Nike Midi Run, la Max Trax, la Air Max Trax Inlite, la Command. Abbiamo un po' tutto qui al bottegone della calzatura. Non posso mancare anche gli articoli un po' più frizzanti. Sia da donna che da uomo, come questa, che da bambino. Poi abbiamo le Diadoria, il prodotto di marca italiana per eccellenza, chiaramente. Più semplici, ma anche, come no, con lo strappo. Molto ricercate con lo strappo. Vedete? Comode. Anche per chi non si può piegare facilmente per allacciarle. Insomma, abbiamo un po' di tutto qui al bottegone. Tutte le marche a pezzi da famiglia. Abbiamo prodotti giusti per la famiglia. Se volete risparmiare, scegliendo fra un assortimento unico, grandissimo, dovete venire al bottegone della calzatura. Anche in novembre, che siamo aperti la domenica. Vi aspettiamo. Ciao.